Gentili lettori di Riviera24, buonasera e benvenuto a Giovanni Cenderello, il dottor Giovanni Cenderello, primario di malattie infettive d'Alborea. Buonasera. La interrogo subito perché noi stessi, la gente, vuole sapere come è la situazione, positivi, ricoveri, pressione sulle strutture sanitarie, ci faccia un quadro della situazione. Abbiamo sofferto nell'ultima settimana un periodo di grossa pressione sui pronti soccorsi, sui ricoveri. Siamo arrivati ad un massimo di circa 130 pazienti ricoverati tra media, alta intensità e rianimazione, 131 e oggi, negli ultimi due giorni, la tensione si è leggermente abbassata. Siamo riusciti a dimettere parecchi pazienti al domicilio o nelle strutture residenziali per pazienti Covid e contemporaneamente il pronto soccorso è stato un po' alleggerito, si sono presentati meno nuovi casi o comunque non così tanti casi da ricoverare. Quindi tra ieri e oggi abbiamo visto per la prima volta nel giro di dieci giorni una lieve flessione dei casi che sono arrivati in ospedale. Contemporaneamente anche i nuovi casi diagnosticati sul territorio hanno un pochettino rallentato, mentre nei giorni precedenti avevamo circa una novantina di casi al giorno, negli ultimi giorni siamo stati intorno ai 53-54 casi. Quindi sembrerebbe esserci una lieve flessione, dovrà essere confermata, prima di diventare una vera tendenza, dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Per confermare questa tendenza ci può essere un'accelerazione per quanto riguarda il pieno di vaccinazioni? Noi, se la Regione o l'Istituto Superiore di Sanità decidessero un'intensificazione del programma vaccinale nella nostra area geografica, nella nostra provincia, questo faciliterebbe. Già il Governatore Totti ha annunciato in un paio di conferenze stampa che buona parte delle forniture del vaccino AstraZeneca verranno inviate nella nostra provincia per vaccinare i lavoratori trasfrontalieri, già questo è un primo segnale di una certa volontà politica che non possiamo altro che sposare ed apprezzare, perché più persone si riescono ad immunizzare e meno circolazione virale ci sarà. Si dice ormai dare i colori, ecco, secondo lei in questo momento, in questa fase l'imperiese, in quale fascia potrà essere catalogato, fascia gialla, arancione, rossa? La gente vuole sapere e c'è molta preoccupazione su questo? Non sono mai stato un bravissimo artista, anzi i miei professori di disegno delle medie del liceo riderebbero. Diciamo che in questo momento la situazione nell'imperiese abbiamo avuto due settimane di grossa tensione, di grosso lavoro e di elevata circolazione virale. Se riuscissimo compatibilmente con le attività economiche, turistiche, eccetera, riuscissimo ad avere un periodo in cui venisse un po' ridotta, venissero ridotti un po' gli scambi tra le persone e quindi passare a una restrizione maggiore rispetto al giallo per un paio di settimane forse ne beneficeremmo. Però non spetta a me, io sono un clinico, sono una persona che cura le persone che arrivano in ospedale. Poi non sono io che faccio le zone perché non ne ho le competenze, né il mio ruolo. Però è vero che forse un pochettino più di limitazioni riuscirebbero a far circolare meno il virus ed alleggerire un pochettino il lavoro di tutti e poi ad avere una ripresa migliore delle attività. Sarà possibile spezzare in due la provincia, secondo lei, da Sanremo verso il confine di Stato a Ventimiglia e diciamo in Amperiese? È una cosa molto difficile da fare in una provincia come la nostra, che poi è, in cui ci sono tantissimi piccoli comuni e c'è una continuità tra un comune e l'altro, voglio dire, tra Sanremo e Armaditaggia, tra Armaditaggia e Costa Rainera, voglio dire, è tutta una cosa in continuo dove le attività poi sono distribuite sul territorio. Mi sembra una cosa molto difficile ed è anche vero che gli scambi sono tali che possiamo aver avuto la settimana scorsa una maggior prevalenza di infezioni a Sanremo a Ventimiglia, ma ciò non toglie che magari nei prossimi giorni aumentino i casi nell'imperiese, anche perché le persone sono le stesse che si muovono all'interno della provincia. Ventimiglia a Sanremo si dice per la vicinanza con la Francia. Cosa c'è di vero? Sicuramente se si guardano le mappe che sono pubblicate dalla Società Europea di Malattie Infettive, gli ECDC, European Centers for Disease Control, fanno vedere che la Francia vicina a noi, la provincia della Provenza, Costa Azzurra e Alpi, è la regione di Francia con la più alta incidenza e un sito analogo, che è quello del GESID, che era pubblicato anche, c'erano i riferimenti anche sul Corriere della Sera settimana scorsa, fa vedere come nella Francia vicino a noi sia presente la variante inglese, quindi una presenza di variante inglese nella Francia vicino a noi, i lavoratori trasfrontalieri, ma non ne sto facendo una colpa, è la realtà delle cose che lavorano possono aver causato una circolazione di virus, anche di virus probabilmente potrebbe, stiamo facendo gli accertamenti nel laboratorio di biologia molecolare dell'Università di Genova, sono in corso, non abbiamo risultati definitivi, potrebbe aver facilitato anche una circolazione di virus con una maggior contagiosità, quindi questo potrebbe spiegare anche quello che abbiamo osservato, è una delle cose, sicuramente la riaccensione del focolaio è legata agli scambi di persone e agli scambi commerciali con la Francia vicino a noi, questo è sicuramente poi, che sia virus originale cinese o che sia virus o la variante inglese, questo cambia poco, sicuramente la regione principale della riaccensione del nostro andare in controtendenza con tutta la regione, con tutta la nazione, perché siamo noi e l'Umbria, per noi la spiegazione più plausibile è l'elevata circolazione nella Francia vicino a noi, che se poi vedete in pratica siamo una piccola colonia francese. Bene, in attesa di conoscere quale sarà il destino della Liguria e dell'imperiese, ringraziamo il dottor Giovanni Cenderello per questo aggiornamento sui dati Covid, grazie ancora dottore, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima. Grazie, buonasera, grazie.